che ha scelto di organizzare un mini campionato e quindi si testa anche qui al Camuglia. Mentre un altro idolo di casa è pronto a partire, Lino Vendeni con Bruno Zendra, eccolo qua, il capo simite della famiglia Vendeni, guarda qua gli applausi del pubblico di casa. Quante volte te l'avranno tifato questi fan? Tantissime immagino. Tantissime volte, tantissime volte. Li ringrazio tutti. E loro ringraziano te. Senti, ma a proposito di tifosi, dove manderesti un tuo tifoso domani a farti il tifo? O stasera? Stasera è scontato sulla Sissime. Domani? Piazza di Bienno al Palo. E domani? Domani è tutto bello, dai. Tutto bello, eh? La discesa di Bienno che è fantastica. La discesa di Bienno è fantastica, quindi la prova di Astrio, ho detto diversamente. Vendeni, Zendra signore, anche qui, se papà Giorgio aveva la foto, aveva il disegnino della figlia, nonno, Lino, anche lui, ha il disegno di Adele. E guarda un po'. Bene, bene. Lino e Bruno. Nendeni, Zendra. E Nucleo. N3 per il pilota di Oslo.